E' come vedere un po' il mondo da lontano, distaccarsi un po' dalla realtà di tutti i giorni e riprendere anche l'approccio con la natura da una prospettiva diversa. Ho provato un'emozione, fra l'altro seduto su una poltrona, veramente seduto in poltrona. Io posso immaginare qualunque cosa, ma non di fare un volo in aria libera seduto in poltrona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.